e l'abrazzo che tal che bello è il terreno no brakes ok il terreno è il terreno l'allai è per l'izquierda qui abrimos un poco control control por aquí drop una S control en la curva subimos me estoy equivocando con la derecha che bello agarré esta parte uuuh che bello 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. A un cammino ancho. O per dove sia? No, sì, di repente una parte sta meglio per lì, di repente una parte per lì, di repente una parte per lì. Sì, qui descarteando. Osea, justo qui in medio è dove sta più nassi per cominciare. Però, pues... O per dove sia? A ver. Alla parte per lì e poi la parte per lì. A ver, qui sta molto bene. che tutto a la derecha o si Yeah! Woo!